Come inviare un SMS di buon anniversario Questa funzionalità una volta attivata permette di inviare automaticamente un SMS a tutti i clienti sposati che a breve compieranno l'anniversario di matrimonio e quindi di invitarli presso il proprio negozio per approfittare di una fantastica offerta. Per attivare questa opzione, dal menu SMS e Mail Marketing, cliccare su SMS e poi su Marketing. Cliccare sull'icona Dati aggiuntivi e selezionare Pianificazione 1. Abilitare la funzione e dal menu a tendina che contiene tutti quei dati aggiuntivi presenti nel nostro database che prevedono la selezione di una data, cliccare su Data anniversario matrimonio. Cliccando su Ricorrenza invece, il sistema ricorderà ogni anno l'evento predisponendosi per l'invio dell'SMS. Indicare in quali giorni si desidera che il sistema avvii la ricerca automatica delle date di anniversario e selezionare l'orario in cui avviare l'operazione. Selezionare quindi un numero di giorni di promemoria. Cliccando su 1, per esempio, il sistema avviserà il cliente un giorno prima del suo anniversario di matrimonio. Indicare un mittente SMS e digitare il corpo del messaggio, usufruendo dei tag variabili come nell'esempio. Digitare un indirizzo e-mail a cui mandare una notifica del messaggio e cliccare su Attiva. Se il messaggio è stato pianificato, il sistema fornisce un riepilogo dell'SMS e permette eventualmente di modificarlo o cancellarlo. Una volta inviato, Pluto registrerà l'avvenuta operazione e l'esercente riceverà la notifica all'indirizzo e-mail inserito. Pluto 3.0 Soluzioni per la fidelizzazione del cliente Ja questa volta immaginale è usata 1.0 Indirizzo 3.0 Imposto Imposto La Due Modificat ют